Ciao, oggi ho parlato di quelle che sono le complicanze del diabete dopo averti ricordato che io sono Emanuele, sono studenti di medicina alla fine del terzo anno, sono un ragazzo diabetico da più di 15 anni e nonostante il diabete ho fatto comunque il grismo agonistico per più di 7 anni e sono stato anche campione italiano. Vediamo a noi, come avrei letto nel titolo, ho citato alcune complicanze che possono essere la retinopatia, la neuropatia periferica oppure nefropatie, nefropatia ovviamente riguardano i renni da nefrologia. Ora, è vero che in passato io ho già fatto un video su questo argomento, ovvero citando e mettendo in mostra alcune foto di problematiche riguardanti il diabete per cercare di traumatizzarvi in modo tale da dire, oddio che brutto speriamo non succeda a me. Ovviamente magari questo video eviterò di mettervi foto di questo tipo ma è semplicemente per mettervi in guardia di quello che potrebbe succedere. È un video quindi che sto rifacendo perché era vecchia, era giusto aggiornarlo, era giusto farlo in modo più carino e quindi eccoci qua. Neuropatia. La neuropatia periferica si tratta di una problematica che può riguardare quindi i nervi periferici, i nervi non sono altro che strutture che hanno il compito di trasmettere gli impulsi nervosi che partono a partire dal sistema nervoso centrale, quindi quello che c'è qui e il midollo spinale che permetteranno quindi poi di dire che questa mano si deve contrarre o che si deve aprire. Venendo un attimo ai nervi. I nervi trasportando quindi le informazioni sensitive ma anche motorie, da un lato se qualora subiscono i danni avremo una problematica nella trasmissione di quelli che sono i segnali riguardanti le sensazioni, ad esempio il caldo freddo o il dolore o meno, ma anche il senso tattile delle mani. Infatti può riguardare le estremità degli arti come ad esempio le mani ma anche gambe e piedi. Ad esempio vengono fatti i test di sensibilità per valutare la sensibilità degli arti inferiori e l'ultima volta che sono andato dal medico a fare questo test mi è stato raccontato ad esempio che c'era un paziente anziano che aveva per vivere la neuropatia periferica problematiche in quello che era la sensibilità dei piedi, era circa l'uno del pomeriggio era al mare e lui si è messo a camminare come se nulla fosse sulla spiaggia rovente e si era ostinato i piedi con delle infezioni ai piedi e sapete che in particolare i piedi per chi soffre di diabete sono molto sensibili. Oltre alla riduzione della sensibilità si può avere anche un aumento del dolore quindi in questo caso l'aumento della sensibilità nocicettiva nocicettiva è la sensibilità dolorifica ma anche ad esempio l'intorpidimento e un formicolio. Mi sono scritto alcune cose per essere più preciso. La neuropatia periferica diabetica può girare progressivamente nel tempo e può causare anche complicanze come l'ulcera del piede, l'infezione, la gangrena o la paletta degli arti. Il controllo adeguato del diabete e la cura precoce e i sintomi della neuropatia periferica diabetica possono ridurre il rischio di sviluppare complicanze e migliorare la qualità della vita delle persone con il diabete. In questo caso viene colpita la retina ovvero quella struttura che permette la trasmissione dell'impulso nervoso che trasforma, anzi più che la retina che trasforma, quello che è l'impulso luminoso in impulso nervoso portando quindi al nervo ottico e permetterà quindi la vista. Quindi con retinopatia diabetica si ha un problema quando vengono danneggiati i vari sanguigni che sono responsabili dell'afflusso sanguigno in questa zona, quindi molto sensibile, a eventuali carenze di sangue o comunque ad una inadeguata perfusione dei tessuti, perfusione vuol dire che non passano, non arriva abbastanza sangue ai tessuti e quindi ci saranno eventuali problematiche che possono essere quindi correlate alla vista. Anche qui mi sono scritto alcune cose per essere il più preciso possibile. Si verifica quando i livelli elevati di zucchero nel sangue danneggiano i piccoli livelli sanguigni nella retina. Lo stato di tessuto è situato nella parte posteriore dell'occhio che percepisce la luce e l'immagine. La retinopatia diabetica può causare la paeta della vista e cecità se non viene trattata adeguatamente. A proposito di ciò, c'è a dire che il diabete è la prima causa di cecità acquisita nel mondo, proprio problematica, proprio riguardante questa cronatica, la retinopatia diabetica. I sintomi possono includere visione offuscata, puntini scuri o macchie nel campo visivo, cambiamenti della percezione dei colori, difficoltà a vedere il buio e riduzione della visione periferica. Malattie cardiache, vi leggo qualcosa molto velocemente, ma in realtà siamo tutti abbastanza informati su quelli che sono i rischi cardiovascolari riguardanti il cuore, che possono andare dall'essere un'ischemia fino ad avere un infarto. all'ischemia si ha quando non vi è, per un qualsiasi motivo, un'adeguata perfusione dei tessuti, ovvero, ad esempio, se ci fosse, a seguito di prendiamo un individuo obeso, quindi potrebbe sviluppare le placche ateroscleroti, che sono placche di grasso che si possono formare, che all'interno dei valli sanguigni, o quindi formare di una sorta di trombi, se vogliamo dire, non è proprio corretto, ma hanno una conseguenza più o meno simile, cioè i trombi ostruiscono tutto il vallo sanguigno, le placche ateroscleroti che invece si accrescono fino ad ostruirlo. Comunque, a parte questa piccola differenza, la conseguenza è che arriva poco sangue a valle dell'ostruzione, per cui si avrà quindi un'adeguata perfusione dei tessuti. Nefropatie, per quanto riguarda le nefropatie, le strutture del nefrone sono diverse, senza entrare quindi a approfondire, argomenti che possono essere un po' complessi o noiosi, per alcuni studenti di medicina, tipo me, sono alcune strutture che sono maggiormente sensibili ad una riduzione di quelli che sono i valori di insulina, ovvero, più che una riduzione di valori di insulina, sono maggiormente sensibili ad un aumento del glucosio nel sangue. Questo perché i reni sono l'organo che fa da filtro, per cui filtrando il sangue si otterrà quello che è l'ultrafiltrato, che poi diventerà urina, procedendo verso l'eliminazione, e in questo caso quindi il reni avrà il compito di trattenere lo zucchero e questo potrà danneggiare alcune strutture del nefrone, che sono quindi la porzione tubulare. Le malattie renali imputate al diabete prendono il nome di nefropatie diabetiche, nei casi più gravi possono evolvere in insufficienza renale, si parla di insufficienza renale quando l'organo non riesce più a svolgere le sue funzioni, abbiamo meno del 20% dell'organo funzionante e in questo caso l'unica cosa che si può fare è ricorre alla dialisi, ovvero che si viene attaccati a una macchina sostanzialmente per 2-3 volte a settimana, in cui viene prelevato il sangue, viene filtrato da una macchina e poi viene reinserito all'interno dell'organismo una volta che è stato filtrato e quindi vengono rimosse le sostanze di scarto. Questo cosa permette? Permette la sostituzione tramite una macchina artificiale di quello che è l'organo. Un'ulteriore possibilità sarebbe il trapianto, ma in realtà il trapianto, uno non sempre disponibile, due comunque non si sa se dopo due anni oppure dopo 20 verrà rigettato, perché tutti i trapianti comunque a distanza e non torta di tempo verranno rigettati. Per cui bisogna, in ogni caso, se si sottopone a tre pianti, bisogna comunque stare a controlli regolari da parte del paziente nei confronti di un medico in modo tale da poter mantenere sotto controllo la situazione, anche perché ci potrebbe essere una reazione spropositata del sistema immunitario nei confronti dell'organo trapiantato e quindi poter danneggiare anche altre strutture circostanti. Ora, è stata ovviamente una brevissima introduzione a quelle che possono essere complicanze, ovviamente non è tutto qui, non è finito qui, ci possono essere molto più complesse e possono esserci complicazioni che riguardano anche altri distretti, non solo. Io vi ho decidato in modo, tra le gritte teorio, quello che può succedere. Non so, ad esempio, l'implicazione pratica che può avere una ridotta sensibilità tattile, ok? Un esempio può essere quello lì che ho fatto riguardante la sensibilità della temperatura. In questo caso questo signore si è messo a correre sulla spiaggia che era lunedì e si è scottato e si è avuto un'infezione. Ora, possono esserci cose molto più gravi, oppure l'infezione si può risolvere, ma in alcuni casi l'arto potrebbe anche essere rimosso, può essere dei casi in cui sarebbe necessario amputare la gamba. In questo caso la gamba, visto che è stata fatta infezione sul piede. Però, non avendo fortunatamente nessuna di queste patologie, non so come ci si trovi in quella situazione. L'unica cosa che si può fare è prevenire, una volta che ci sarà di avere il diabete, l'unica cosa che si può fare è prevenire in modo corretto tutte queste eventuali problematiche. Indovinate cosa si può fare? Iscrivendovi qua sotto al canale, guardandovi i video, a parte questo, seguendo alcuni consigli che vengono dati, vabbè, oltre che da me nei video, ma anche dei medici, ovvero l'alimentazione sana, l'aderenza e la terapia, quindi misurarsi sempre le glicemie, fare sempre le insuline, mangiare in modo corretto, fare attività fisica, avere uno stile di vita sano, equilibrato, le solite cose che avete già sentito. Io ho detto quello che ti dovevo dire, manca solo da ricordarti di lasciare un mi piace, un commento o di iscriverti al canale, se il video ti è piaciuto. Io ho finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a martedì.